Ciao a tutti amici di App Video Review oggi andremo a recensire un giochino The Ace disponibile in App Store a 79 centesimi che metterà alla prova tutte le abilità logiche di noi possessori di iPhone o iPod Touch andiamo allora a vedere questo gioco ecco questa è la sua interfaccia grafica come potete vedere io ho allora sostanzialmente prima di vedere questa schermata qua c'era una cassaforte che andava distrutta come andava distrutta? sostanzialmente noi all'interno di questo cerchio qua c'era appunto la cassaforte con qua spostati sulla destra quattro lucchetti rossi questi quattro lucchetti rossi andavano sbloccati in che modo? completando le varie modalità presenti e una volta che questa barra qua con il simbolo di fulmine veniva completata un lucchetto appunto diventava verde una volta che tutti e tre e tutti e quattro scusate i lucchetti diventavano verdi quindi finiamo appunto il gioco quindi riusciamo ad aprire la cassaforte per poi andare a trovare questo premio questo premio non è sostanzialmente che un gioco per Mac o per Windows quindi ci viene regalato questo gioco attraverso un codice e noi avremo così poi la possibilità di scaricarlo gratuitamente andiamo allora a vedere quali sono le quattro modalità di gioco abbiamo questa la prima che sostanzialmente è una non dovremo fare altro che cercare di far arrivare questa bobina alla sua fessura quindi attraverso lo spostamento di questi blocchi di legno noi non dovremo fare altro che cercare di far arrivare questa bobina di appunto alla sua uscita avremo la possibilità in tutti i quattro le modalità di gioco di ricominciare il livello per poi andare appunto fino alla quindicesima cioè fino al quindicesimo livello quindi l'ultimo per ogni modalità andiamo a vedere la seconda dove noi sostanzialmente dovremo andare a sistemare questi oggetti all'interno di questa tabella all'inizio è facile ma man mano che si va avanti la tabella diventa sempre più grande gli oggetti saranno sempre diversi e noi dovremo stare attenti appunto a non metterli nella stessa una sottospecie di sudoku solamente che dovremo utilizzare queste figure andiamo a completare velocemente il primo come potete vedere in questo caso non ci sono difficoltà di sorta perché comunque ci sono solamente quattro buchi con appunto cinque scusate cinque buchi con quei cinque oggetti quindi diciamo che il primo livello servirà solamente per farci capire un po' come funziona il gioco già andando avanti come potete vedere i buchi dove noi dovremo andare a inserire i tasselli aumentano e quindi man mano che si andrà avanti il gioco diventerà più difficile andiamo a vedere la terza modalità terza modalità dove noi andremo a impersonificare tra virgolette un robottino e basterà semplicemente trasportare questi cubi verdi alla loro sorgente per far sì che il livello venga completato ultimo ultima modalità di gioco noi non dovremo fare altro che collegare questi fili verdi quindi un po' come il famoso 15x15 basterà in questo modo collegare i fili quindi anche qui ovviamente i primi livelli sono facili poi per poi andare via via più difficili quindi sono 15 livelli per ogni modalità di gioco e basterà comunque completare un buon 70-80% di qualsiasi livello che poi andremo appunto ad aprire la cassaforte vediamo subito le impostazioni abbiamo la possibilità di togliere sia il suono che la musica si interfaccia pienamente con Game Center quindi come possiamo vedere non ci sarà una classifica magari per il tempo impiegato ad aprire la cassaforte ma abbiamo solamente i trofei e poi avremo invece la possibilità di votare l'applicazione su App Store bene la recensione si conclude qua io lo consiglio comunque per coloro che vogliono mettere vogliono comunque testare le proprie abilità logiche ma devo dire che comunque mi ha veramente colpito sia per la comunque per la sua facilità anche di di prendere veramente un giocatore ma anche perché comunque si ha questa voglia di di aprire questa cassaforte per vedere che cosa c'è all'interno bene io vi saluto ciao a tutti